Gli ginezzi hanno una scuola e vedi una piazzina però ho capito che è più autoritaria la serie ma perché è più piccola ah l'è bablito che è la legge è un po' pezzo è un po' pezzo è un po' pezzo Nico? è importante? non gioca quei giochini? si si è giocarellone ma sono su di sopra e su di sopra li ha lavati sono giù l'asciugatrice guarda mi mi abbraccio saluta ah vedi come sono bella che sono andata al lavaggio sono andata al lavaggio vedi che sono andata al lavaggio ma va che bella tutto ok io ho uccella ma da che io ho uccella? l'avete visto prima? avete visto prima? si ho in contatto no no mi senta l'udurbe qui? si si sono andata al lavaggio ma ora sto preparando il sistema di cuore ma ora mi hanno fatto un po' di pesado la danzata ma la sera è un segno quindi ho armato un pateco un po' di ragazza tanto lì ma si ma si non c'è una macchina foto su mia parte metà te oltre non te so che tanto la sera tanto la sera che vuole lì 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 non va bene lì fa così sempre la mattina sono giù sempre la mattina per pomeriggio ah bene se no dopo a mezzo dopo a mezzo c'è la tricina mangia 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 sopra la sera vabbè non va a sare come la fatta vedremo non c'è una cosa avevo due fiori gialli la Sissi li ha mangiati ma io so in fiore che è una meraviglia mi sono andata a vedere la Sissi con il mio piccinino